Ed eccoci qui di nuova Cremona con una comparativa assolutamente succulenta L'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, avevamo provato la V4S comparata con una 851 Il salto tra una e l'altra era forse troppo, ma insomma sembra che vi sia piaciuto perché il video ha fatto una bella mezza milionata di visualizzazioni Quindi replichiamo, ma questa volta con lei, forse la moto superbike più amata di Ducati La 1098 in configurazione R, per chi non lo sapesse la 1098 R è 1200 di cilindrata al contrario di quella classica che è 1098 Ma per essere al limite del regolamento del mondiale superbike l'avevano portata con questa speciale configurazione a 1200 E pensate bene, 185 cavalli di potenza, non so se mi spiego, che per l'epoca erano tanta roba E di qui abbiamo quella che conosco meglio, abbiamo la nostra V4S, la muccona ignorante 2.0 Però la muccona ignorante del passato ancora non l'avevo provata e insomma oggi era da fare Come scarpe abbiamo come al solito ovviamente Pirelli Diablo Rosso Corsa 4 Perché abbiamo scelto questo tipo di pneumatico? Perché nel passato non è che avevamo gomme performanti come oggi Quindi bisogna un po' insomma adattare la situazione in base a quello che era o è oggi Quindi Diablo Superbike per la V4S e Diablo Rosso Corsa 4 per la nostra carissima 1098 Adesso lo sapete, di cicerare non c'ho voglia, quindi andiamo in pista e vediamo come vanno Mamma mia, che bombardone Mamma mia, cioè questa moto profuma di old school da ogni poro Cioè è una roba follia Cioè profuma veramente di Troy Bayliss, non so come dire Mi hanno staccato tutti i controlli E già si vede Ok, 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 ok Molta calma Il bello di avere sponsor come mollificio che sono appassionati fino al midollo È quello di poter provare queste bellezze Porco Dio se tira Uno può pensare, è una moto del 2007 Figura che non andrà forte No, no Mamma mia, che ignoranza Ignoranza pura Andiamo dietro a quello lì No traction control No segmentali No DGC Un cazzo Mamma mia, tranquillo Luca Che questa, se la butti devi scappare in Messico Quindi molta molta attenzione Mamma mia, che bella Se la V4S è una muccona ignorante Questa è la regina delle mucconi ignoranti Se devo dire che è proprio uno spettacolo Non mi aspetto una facilità di guida Da una moto Di Quanti cazzo Ho due in matematica Non riesco a fare 2024 Me lo ho 2007 15 e 18 Quanto fa? C***o Ma in ogni caso Di tanti anni fa Non mi aspetto di sicuro Un comportamento dinamico come questo Agile Facile Volta In un fazzoletto E Diavolo Rosso 4 Mi sta comportando da Dio Cioè le sto strappazzando da due turni Zero problemi proprio Mamma mia cosa ho rischiato Che ignoranza Che ignoranza questa moto ragazzi Nice Che dire E' uno spettacolo Non c'è molto da argomentare Lato positivo L'emozione Cioè qui Emozione pura E' ignoranza E' quello che mi piace C***o E' così E' così che dovrebbe essere No traction 180 fottuti cavalli sotto il c***o Moto comunque ciclisticamente Facile Da gestire Da gestire Ed è incredibile vedere Come Andando avanti nel tempo Dato che l'elettronica Dava una grossa mano Ci si è potuti spingere Su ciclistiche Più aggressive Che senza controlli Ovviamente Farebbero Fatica A essere gestite Dall'utente comune Invece qui La meccanica E' quella di Ducati Di 15 anni fa Tipo Possiamo migliorare Ma per il resto Uno va fortissimo Va fortissimo 290 all'ora In fondo al dritto A qua Cioè E poi No DTC Mezza piega Io sabito Ormai ho il cervello Che faccio così Le gomme fanno paura Perché Entri No termo Due pieghe Già Cioè Vai Con Estrema sicurezza Ma che bene Nelle Diablo Rosso 4 L'avevo già provata Nel lontano 2015 Moto ex Giuliano Della Stock 1000 E ve lo devo dire Me ne ero Già innamorato Era Da pista Con Gomme slick Però non ero riuscito Ad assaporarla Fino in fondo Senza l'ansia Appunto Di lanciarla E via dicendo Quindi ce la siamo presi Un po' più con calma E devo dirvi che Comunque le sensazioni Sono Le stesse Pensate poi Che questa 1098R È la prima moto Di serie Ad adottare Il DTC Cioè il classico Traction control Ovviamente rispetto a quello che c'è oggi È completamente Un'altra cosa Difatti ho voluto Saggiarla Senza Abbiamo staccato tutto E avete visto Dei bei rischioni Dei bei movimenti Di posteriore I piloti di oggi È brutto dirlo Ma non sono abituati A gestire tutto Con la manopola del gas Ma anzi È tutta una guida Impostata Sul cercare di far lavorare i controlli Il meno possibile Ma in ogni caso È normale che poi la guida Si adatti Per appoggiarsi Su questi controlli So i puristi Saranno lì Oddio Bestemmie Ragazzi Così non si può fare niente Ma è comunque bello Riuscire a fare un salto Nel tempo indietro E capire cosa voleva dire Guidare 190 cavalli Tutto Col polso destro E adesso signori e signori Lo sapete La V4S La conosciamo tutti Benissimo Ma Scendere da questa E sedere su quell'altra Facendo un salto Praticamente quantico Di 18-19 anni Con miglioramenti Su gomme Ciclistica Elettronica Vi dicendo Vediamo Cosa vuol dire Che sensazioni Mi darà Risali Sopra qui Posizione in sella Completamente Più caricata Sull'anteriore Moto affidatissima Mamma mia Quanto va forte Quanto va forte Cioè No È incredibile Sembra che sono nato Per andare su Sto affare qua È incredibile L'altra Come dicevamo Emozioni Eh Sensazioni Ma qui Gol Mamma mia Che moto Nonostante Sia Di serie È una roba Che non ha senso La sicurezza Che mi dà Pronti via È un qualcosa Che non ha senso Ed è tutto Un mix Delle cose Elettronica Ciclistica A tanti non piacciono Le sospensioni Elettroniche Ma Quando funzionano Sono spettacolari In curve Si irrigidiscono Come in questo momento Qui Do gas E mi fermano subito Il movimento Sul posteriore E si sente Rispetto a quelle Meccaniche Per un amatore Secondo me Sono addirittura Meglio Cioè Tutto questo Con il Catalizzatore Che cazzo Stiamo parlando Mamma mia Sali qua sopra Mi sente Gesù Cristo Praticamente Quindi là È un po' L'emozione Per così dire Qui È la prestazione Pura Mamma mia Brividi Voglio farvi vedere Una roba folle Del 2024 Cioè Come i controlli Hanno preso un po' Il posto Secondo me Della ciclistica La ciclistica Può essere più aggressiva Può essere Più puntata Sulla anteriore Può essere Molto Più Tra parentesi Difficile Da interpretare Ma è tutto Un tuttuno Insieme all'elettronica Che ti permette Di gestire Al meglio Questi mostri Di potenza Un esempio pratico Adesso Usciamo di prima Dal tornantino Spalancando il gas Vi faccio vedere Che fa meno paura Che un 600 Guardate Mano 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 Impressionante Con il DTC A1 A1 Rifacciamo l'esperimento Di prima Guardate che si accende Prima Prima Occhio sul gas Piegato Occhio sul gas Impressionante Suono il DTC A1 A1 Cioè Non so se mi spiego Pensate per la 3 Cioè È impossibile Cadere Cioè È impossibile Ovviamente È molto più facile Cadere Di anteriore L'anteriore latina Esagerate col freno Che oltretutto Su questo C'è Il cornering ABS Quindi in teoria Potete addirittura Frenare Fino a 40 gradi di piega A 30 bar E la moto Davanti non si chiude Semplicemente Vi allunga un pochino La staccata E in teoria Manco lo sentite Come sentite in moto Il salto da una all'altra È folle Cioè Ti sembra veramente Di fare un salto nel tempo Che alla fine È così E qui Mamma mia Un'arma Da distruzione Di cordoli È una roba Incredibile E come abbiamo detto prima Alla fine Il succo è tutto qua Di là Sulla 1098R Abbiamo L'emozione Magari Non è perfetta Non è Precisissima Non è Come una moto Dei giorni nostri Ma Ti trasmette Molto di più Qui abbiamo Un'arma Affilatissima Tenuta a bada Dall'elettronica Che ci permette Di andare Fortissimo E in completa sicurezza Quindi non lo so Voi preferite Ancora un po' La rusticanza L'ignoranza Del passato O La mega super prestazione Missile terraria Ti permette Di andare Molto più forte Molto più vicino Al tuo limite Ma Più in sicurezza Con un pochino Di emozione in meno Si fa per dire ovviamente Fatemi sapere Cosa ne pensate Qui sotto nei commenti Ovviamente Iscrivetevi Perché È gratis E soprattutto Se avete in mente Qualche altra prova Di confronto Nei limiti del possibile Fatemi sapere Perché sono curioso Detto questo Come al solito Gas ci vediamo Al prossimo video I'm gonna tell you I'm gonna tell you I'm gonna tell you I'm gonna tell you I'm gonna tell you